Ben ritrovati in studio per una nuova puntata di ASEA Notizie. Diamo il benvenuto a Mauro Ghiringhelli, segretario ASEA. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Un mese di settembre che ha preso il via nel nome del disequilibrio, della confusione con una situazione nazionale a livello politico molto complicata. Ovviamente questa situazione ha anche delle ripercussioni sul settore degli autotrasporti, soprattutto per quanto riguarda una serie di questioni aperte da tempo. Ne avevamo già parlato poco prima delle vacanze estive a partire dal Brennero, dalle accise, dal decreto sugli investimenti. Quindi insomma, tante tematiche che restano aperte e che vedono dunque sul piede di guerra il settore dell'autotrasporto. Sì, sul piede di guerra per il momento no, però è chiaro che ci sono una serie di argomenti, di temi, tra cui quelli appena citati, che chiaramente devono essere affrontati. Erano aperti a luglio, sono aperti da mesi, diciamo, per poi ad esempio il discorso Brennero, ormai mesi che proseguono queste limitazioni al transito e purtroppo rimangono aperti ancora adesso con questa situazione politica molto complessa che sembra sia stata risolta. Adesso vediamo quali saranno le soluzioni a queste problematiche che chiaramente vanno a impattare in maniera rilevante sul nostro settore. La più evidente, quella che tocca di più, perché è anche quella che portava benefici immediati, è chiaramente questo decreto relativo ai contributi sugli investimenti. Un decreto che ormai era diventato una misura strutturale, che usciva nelle prime settimane di luglio, adesso siamo a settembre, non è ancora uscito. Di conseguenza anche le aziende si trovano in difficoltà, ma anche le case costruttrici, perché sono stati fatti ordini sulla base delle date precedenti, di conseguenza degli ordini di consegna per settembre. Adesso gli ordini sono pronti e purtroppo questi veicoli non possono essere acquistati, non possono essere immatricolati, perché finché il decreto non verrà pubblicato tutto rimane fermo. Per cui è una situazione veramente difficile, dove le aziende rischiano di fare investimenti e poi di non poterne anche usufruire degli incentivi, che ripeto, ormai sono diventati una misura strutturale, anche perché sono incentivi principalmente basati sulla sostituzione di veicoli inquinanti, per cui anche qui torniamo sempre al solito discorso di cercare di migliorare la vita di tutti, però, ripeto, questi contributi tra l'altro, che sono anche molto lunghi da ottenere, per il momento non ci sono. Fortunatamente per quanto riguarda il nostro settore, è in via di pubblicazione un decreto, un bando della regione Lombardia, sempre sulla sostituzione di veicoli più inquinanti, che ha aperto anche al trasporto merci contro terzi. Questa è una novità importante, era una misura che riguardava solo i veicoli privati o di conto proprio, quest'anno invece riguarderà anche il conto terzi, per cui almeno un po' di ossigeno alle aziende da questo deriva. Però, ad esempio, nel decreto incentivi c'è tutto il discorso legato all'acquisto di semi rimorchi, che chiaramente era una fetta molto importante degli investimenti del nostro settore. Appunto, lei diceva, una boccata d'ossigeno servirebbe avere più boccate d'ossigeno, soprattutto in un periodo così complicato da tempo, anche le aziende dell'autotrasporto soffrono la crisi economica, quindi questo decreto è importante che venga sbloccato velocemente. Sì, è un momento difficile, dove anche la concorrenza, un altro punto non detto prima, ma chiaramente a quello poi della verifica, della correttezza dei vettori stranieri che vengono a lavorare in Italia. Per cui sono tutti punti che mettono in difficoltà le nostre aziende, di conseguenza è necessario più presto che si riprendano i tavoli che sono stati interrotti un po' da questa situazione politica, un po' chiaramente anche dalla pausa estiva, e che soprattutto oltre che i tavoli ci siano anche delle soluzioni concrete, perché altrimenti veramente le aziende fanno fatica a proseguire nella loro attività. Speriamo dunque nella prossima puntata di parlare di queste soluzioni concrete, intanto prima di chiudere ricordiamo ASEA continua ad investire nella formazione, giusto? Sì, esatto, a settembre è il mese della ripresa delle attività e per cui anche della ripresa della formazione, per cui abbiamo i soliti corsi importanti per le nostre aziende, di conseguenza riprenderanno i corsi per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, rinnovi i corsi per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo del patentino ADR per trasportare merci pericolose, i corsi sul funzionamento del cronotachicofo, di conseguenza tutto quello che concerne praticamente la formazione del nostro settore. Invitiamo tutti ad andare sul nostro sito che è www.aseavarese.it a verificare tutte queste iniziative e sul nostro sito sono riportate anche tutte le circolari che sono di interesse per il nostro settore. Bene, grazie dunque per questa chiacchierata, ci rivedremo il mese prossimo, sperando di parlare appunto di qualcosa di concreto fatto per il settore dell'autotrasporto. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie, alla prossima puntata, arrivederci. Grazie a tutti.